Ciao ragazzi, sono Kingslave Corporation e sono qui oggi un po' sconvolto dalla live precedente perché ho fallito, ho fallito come combattimento e niente, ora voglio andare indietro e rifare il culo a Muspelheim, non mi interessa. Sono un uomo distrutto, sono salve, buonasera, sono un uomo distrutto, non ce la faccio. Allora dopo questa live ce ne sarà un'altra, l'ultima e basta perché ho da fare oggi un video. Poi dobbiché, o forse stasera di tre. Seguitemi su Instagram, su Youtube e su Twitch come Kingslave Corporation. Stasera di tre. Intanto però... Forse. Dai. No, vai e gol. Come si succede da un giocatore. Ma non si succede da un giocatore. No, vai e gol. È tutta il video giocatore. Scusate Ho modificato pure il volume del microfono Così a me non mi sentirete molto di più Perché di solito Il microfono lo tengo basso Per evitare l'eco Ma soprattutto per Ma qui ci abbiamo fatto Dobbiamo andare di qua È vero Basta Pronto? Pronto Oh, parlavi al ragazzo, certo Vedo che sono pronto Vai, è primo Pronto Pronto Oi? Pronto 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. sinistra. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ok. a tutti. 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 ok. a tutti. a tutti. vai. a tutti. 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 ok. a tutti. . . . . . Allora. . qui non lo posso fare sai quanto mi servirebbe questo mi alza di livello non posso raga non posso posso riscattare cioè posso potenziare cazzo si vai non essere troppo caldo a meno livello 5 lo crema no dicio soldi bene che serve per potenziarli quindi l'oro di ai giri in teoria non serve in niente vai 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 allora buona fortuna Ok raga Allora Mi fermo qui Li prendiamo Subito dopo Proprio subito subito Ok Intanto Ricordatevi di seguirmi Su Instagram Su Twitch E su Youtube Come Kingslave Corporation Pertanto Ci rivedremo tra poco E niente A dopo Al vero Al meer Grazie a tutti